è Tom e il condizionamento televisivo chi sia Tom voi lo sapete non c'è bisogno che io specifichi ulteriormente il fatto è che Tom ha appena pubblicato un magnifico video sul condizionamento televisivo io il video di Tom ve lo metto nel riassunto di questo video e il bello è che in questo video di Tom questo ultimissimo video di Tom sul condizionamento televisivo si parla del nostro inconscio, del nostro subconscio e Tom lo sa che in questa mia storia della filosofia io parlo tantissimo del nostro inconscio e del nostro inconscio capito? perché ci ha messo le mani anche lui a questa mia storia della filosofia il suo nome è scritto qua, lo vedete? bellissimo il video di Tom sul nostro condizionamento televisivo il fatto è che Tom si è dimenticato e che lui è il concestore, il contitolare di questa mia web tv on demand capito? si ne dimentica sempre per cui nel video che ha fatto Tom è un video bellissimo si è dimenticato si è dimenticato di dire che l'unica tv che non ti condiziona ma anzi ti decondiziona è la web tv di Serafino Massoni che è anche la web tv di Tommaso Minneti e perché io prima di morire dovevo pensare a chi l'avrebbe portata avanti questa mia pregiata web tv e nel mio testamento c'è scritto che questa mia pregiata web tv la deve portare avanti Tommaso Minneti e allora gli ho dato le chiavi dell'appartamento l'appartamento web televisivo capito? e allora questa web tv andava citata nel video di Tommaso Minneti ma Tommaso Minneti se ne dimentica sempre di questa web tv che non ti condiziona ma ti decondiziona ti decondiziona perché questa web tv di Serafino Massoni andata da Tommaso Minneti e si basa su queste opere ma soprattutto si basa su questa opera che nella sua bella versione di lingua inglese sta in tutto il mondo cari amici centro Leonardo di Genova centro Leonardo di Genova che è strettamente agganciato alla casa editrice editrice di Agostini ed è strettamente agganciato alla Apple la mela la mela capito Tomm? e quando fai video ti devi ricordare della nostra web tv perché ormai la nostra web tv ha quasi 10.000 iscritti 10.000 iscritti quasi 7 milioni di visualizzazioni oi 7 milioni e più di 8.000 video e questa è la web tv che non ti condiziona perché quasi si parla della scoperta della funzione dello sperma del passaggio dal matriaccato al patriaccato e queste cose mica si dicono nelle altre televisioni va bene va bene Tomm carissimi carissimi amici io vi lascio il video di Tomm nel riassunto di questo video andatelo a vedere e poi state tranquilli che questa mia web tv vi aiuta a decondizionarvi va bene va bene non solo questa web tv vi aiuta a decondizionarvi ma soprattutto le notizie vedrà prima prima di tutte le altre televisioni capito a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni e ricordatevi che l'ultimo video di Tomm sul condizionamento televisivo lo trovate nel riassunto di questo video che